Oggi al canale per bambini giochiamo coi puzzle e impariamo i numeri da uno a dieci! tre tre quattro tre quattro cinque cinque sei sette otto nove nove dieci dieci e ora ripetiamo insieme! uno uno due 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 tre tre quattro quattro cinque 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 sei sei sette sette otto otto nove 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 dieci 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 d e a